Motta buon dì a tutti quanti. Una cosa ma io quando parlo la gente ascolta quello che dico secondo me no cioè voglio dire non è che sto dicendo che tutti mi devono ascoltare però quelli che vanno sul mio canale e o comunque ascoltano quello che io dico nel video ma ascoltano tutto o solo una parte perché oggi mi è arrivato un commento che va benissimo io accetto tutto come ho sempre detto però mi piace anche discutere le cose di un certo Tony Bellani il quale andate a leggere che roba cioè infatti gli ho risposto un pochettino non stizzito però della serie ma quant'anni te che è praticamente mi accusa che io di scheraggi non devo parlare perché lui è un grande 30 anni di allenamento ma 30 anni ce li ha di età 30 anni di allenamento lui mette in pratica quello che ha fatto in 30 ma ce li ha 30 anni di vita no così per sapere perché se ha 30 anni di vita non può avere 30 anni di allenamento che ha iniziato a allenarsi dentro la panza della mamma la mamma sentiva scalciare non erano i calci del bambino erano i bilanciere che picchiava sulla panza cioè fammi capire a parte questo e poi mi dice no perché tu allora fai quello che ha fatto lui e cominci a mostrare le analisi come ha fatto lui allora ma giusto così è nel video io parlo molto chiaramente in otto minuti e dico quello che penso quello che vedo di giusto e quello che vedo di sbagliato senza offendere nessuno cercando di essere un pochettino ironico ma senza fare il politicali correct cioè nel senso se devo dire una cosa se per me è sbagliata una cosa la dico lo posso dire senza offendere direttamente con offese dirette e un turpiloquio la persona interessata la critica ecco cosa faccio io c'è ma è da leggere perché veramente è un commento che mi fa morire infatti gli ho risposto quanti anni hai 8 cioè figlio mio io nel video chiarisco che a me piace anche che il messaggio che passa da un punto di vista motivazionale ben venga che è una persona preparata queste cose no non vanno né che lo dico per indorare la pillola tutti noi caro il mio ragazzo abbiamo lati positivi abbiamo lati negativi abbiamo alcune cose che possiamo fare con orgoglio altre che pensiamo di farle bene e invece non è così altre ancora che sono una via di mezzo non c'è la persona illuminata non esiste c'è la persona più o meno buona quella che sarà più brava in alcune cose più buona in altre una che sarà più cattiva e meno buona in altre ancora e così via in percentuali diverse tra di loro ma abbiamo tutti lo yin e lo yang caro il mio ragazzo chiuso argomento del nostro amico tomi toni bellami o bellami non so come si pronuncia detto questo vorrei tornare sul discorso della parola che ho detto poc'anzi cioè politica li corre è una cosa che odio cioè io vedo prendo uno youtuber di cui ho già parlato sempre simone generali che attenzioni mi piace è un ottimo youtuber da seguire ma c'è un lato nonostante mi piaccia per l'ottanta per cento c'è un lato un vinti per cento che non mi va proprio c'è questo suo atteggiamento del moralista politicali corret no quello che dicevo prima cioè il fatto di dover sempre e comunque fare la predica può apparire come salvatore dei ragazzi che va bene come concettualmente come ideologia va bene ma secondo me va portata in un modo diverso per tutto perché non hai l'età per fare il papà di tutti i ragazzini sei troppo giovane 1 2 anche se hai l'età come sottoscritto ad esempio io potrei avere quell'atteggiamento da un punto di vista dell'età ma cerco di evitarlo perché avere uno che ti fa la predica una rottura di coglioni punto cioè uno deve saper ragionare portare i propri ragionamenti con un filo logico e con molta sincerità stesso discorso da applicare al doping tutti che ne parlano male d'accordissimo non va fatto d'accordissimo fa male d'accordissimo è da evitare d'accordissimo bisogna raccontare palle sull'argomento non sono d'accordo per un cazzo bisogna mettere la verità sull'argomento non sono d'accordo per un cazzo ma come sul doping come tante altre questioni cioè quindi faccio questo video in parte all'inizio per rispondere anche col video a il ragazzo di cui prima e da una parte per spiegare che a me il politically correct mi fa un pochettino perdonate il termine cacare perché bisogna essere corretti ma mantenendo le proprie idee i propri principi o comunque la propria linea non sempre o minimizzare o passare sopra e o soprattutto omettere i fatti come vale per il doping come vale anche per i ragazzi che fanno i commenti sul fatto che io dica che uno mi piace però poi dico di contro sbaglia a mandare il massaggio di mangiare tutto come uno maiale no per dire cioè allora no sei un bastardo perché parlato male di un ma non è parlare male ovviamente immagino che molti ragazzi che facciano i commenti così per partito preso sono anche giovanissimi e questo denota una forte immaturità non che per forza uno giovane sia immaturo comunque però l'incidenza dell'immaturità è sita dove i ragazzi molto giovani questo è un dato di fatto poi ci sono dei ragazzi giovani che sono più maturi di me per dire no sono pochi però ci sono detto questo ragazzi chiudo e vi porterò presto un altro video sempre sui vari argomenti adesso vedrò cosa trattare se avete un argomento che vi interessa particolarmente o qualcuno interessato a sapere cosa penso di una determinata cosa di una determinata persona determinato allenamento in una determinata situazione di qualsiasi cosa sempre disponibili non vanno nessuno accetto di tutto potete scrivermi quello che volete io rispondo sempre perché non perché devo monetizzare dove perché un passatempo mi diverto mi diverto va bene così e a differenza delle persone magari un po immature accetto anche i commenti degli altri a volte anche se sono senza senso offensivi non sono pertinenti fa niente accetto tutto perché nella sostanza mi diverto e passo il tempo va bene così ragazzi un bel buon dì motta con dentro il cioccolato anzi no cereali integrali poi di libidine a salute